33 evasori fiscali, 8 datori di lavoro che hanno utilizzato 20 lavoratori nero di cui un extra comunitario e confiscati beni per oltre 10 milioni di euro. Questi alcuni dei risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza Provinciale da gennaio a maggio del 2015. Un bilancio illustrato durante una conferenza stampa dal colonnello Antonino Raimondo in occasione del 241esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Il nostro compito, ha detto, è quello di aiutare e sostenere l'economia sana e cittadini onesti. Garantire condizioni di equità fiscale, quindi di rispetto delle regole per tutti, consente a determinati soggetti di non approfittare dell'illegalità economica, quindi a non approfittare, mediante l'evasione, di essere più competitivi sul mercato. E cercavano di essere più competitivi sette imprenditori cinesi operanti a Fano, Rubino e Fermignano, che formalmente erano in regola, ma si dimenticavano di versare le imposte. Fra i soggetti controllati, quattro sono risultati completamente sconosciuti al fisco. Le operazioni ispettivano, permesso inoltre di individuare due lavoratori in nero, di cui uno senza permesso di soggiorno, e di sequestrare un locale aziendale a Fossombrone per gravi violazioni alle norme anti-infortunistiche sui posti di lavoro. Un risparmio di imposta di centinaia di migliaia d'euro per ogni annualità da parte di ciascun operatore consentiva a questo operatore economico di essere competitivo nei confronti del mercato e quindi di poter avere l'opportunità di aggiudicazione da parte di committenti privati di appalti per realizzazione di manufatti, parliamo di abbigliamento, capi di pelletteria, tutti di altissima qualità, con prezzi chiaramente più vantaggiosi e più competitivi. In aumento rispetto al 2014 anche le anomalie in tema di scontrini e ricevute fiscali. Su 1.137 controlli sono stati 166 quelli risultati irregolari. La Guardia di Finanza ha denunciato inoltre 7 persone per aver richiesto percepito indebitamente assegni sociali o pensioni per oltre 57.000 euro riservati a persone in condizioni di invalidità. Quattro violazioni amministrative invece sono state elevate nei confronti di distributori di carburante per la qualità non idonee dei prodotti petroliferi. Per quanto riguarda le azioni a contrasto della criminalità sono stati confiscati beni per oltre 14 milioni di euro ad un sodalizio dedito all'estorsione, clonazione e ricettazione delle carte di credito. Un risultato che rientra nell'operazione denominata Top Up che ha portato nel 2013 all'arresto di quattro persone. Tra i beni confiscati, tre stabilimenti a cartoceto, una palestra, diverse vetture e conti correnti. Nel mirino delle Fiamme Gialle è anche un capannone nella periferia di Fano in cui sono state trovate oltre 500 chili di sigarette di contrabbando sequestrate insieme al deposito e l'autocarro utilizzato per il trasporto. Il commercio illegale avrebbe fruttato circa 320.000 euro, 261. Infine sono le banconote false per la maggior parte del taglio di 20 euro segnalate alla Procura della Repubblica. Fondamentali, ha precisato il comandante provinciale Raimondo, sono state le telefonate al 117 da parte dei cittadini che hanno consentito di individuare e reprimere diversi illeciti finanziari e amministrativi. Colpire l'aspetto fiscale, ma colpire la tutela della spesa pubblica, colpire il mondo dell'antiriciclaggio, studiare le varie fenomenologie individuando i giusti target di carattere giuridico sono la sfida che ogni finanziere nel proprio quotidiano sente come una propria missione. I risultati dei primi cinque mesi del 2015 sono da parte nostra una grande testimonianza dell'impegno di tutti, di tutti i finanzieri che con l'occasione ringrazio.